bene bene questo è nuovissimo questi sono dei perfondi po trovati così con il secco e bianco sotto ma che scherzi questi sono belli eh sì è vero buono non mi chiede quello quello che è bello due ci siamo vicini questo mi sembra bombeggiavo eh sì è bombeggiavo guarda qua eh erano piccini di sabato ragazzi filmo poco perché c'è da correre però tanta roba l'intervista l'intervista il fatto che non si può fare la scuola